Un lungo cantiere per sistemare la pavimentazione e rendere più appetibile la fruizione del centro storico, ma la polemica già entrata nel vivo al via ai lavori di riqualificazione del centro storico. Ad essere interessate dalle operazioni di restyling saranno quattro aree, nello specifico le zone nei tratti da Piazza 20 Settembre a Corso Video, dal Civico 162 a 217, dal Civico 133 al 160, la porzione di via Mazzara fino al Civico 13 e un'area inerente Piazza del Carmine. Gli interventi, che dureranno circa un mese e mezzo, riguarderanno soprattutto il rifacimento della pavimentazione con cubetti di porfido in diversi punti, la sistemazione di nuovi arredi urbani in massello di travertino come panchine e cestini per i rifiuti e fioriere. Saranno sostituite le lampade al sodio con proiettori a LED, un nuovo look che coinvolgerà anche Piazza 20 Settembre e lo slargo a ridosso dell'acquedotto lungo corso video, vicino Piazza del Carmine, in cui sarà realizzata una nuova pavimentazione con lastre di porfido e saranno collocati nuovi arredi urbani. Per il vice sindaco e assessore comunale ai lavori pubblici, Nicola Angelucci, si tratta di lavori inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche per un importo complessivo pari a circa 300.000 euro, che consentiranno anche una migliore fruizione degli spazi da parte di turisti e cittadini nell'ottica di una valorizzazione e salvaguardia del centro storico caratterizzato da un importante patrimonio storico e architettonico. Non piace però a qualche sulmonese e alla consigliera di Forza Italia Elisabetta Bianchi l'idea di abbattere il pino secolare di Piazza del Carmine. Un progetto incomprensibile che prevede una diversa distribuzione degli spazi verdi, lo spostamento della fontanella e un nuovo discutibile allestimento delle arredi urbani, panchine e cestini, nonché l'eliminazione delle piante ora presenti, ivi compreso il pino che svetta sull'acquedotto medievale, fa notare la Bianchi. Chissà cosa penseranno gli anziani di quello che per anni è stato il loro regno.